Milling Center è un'azienda giovane e dinamica che si occupa di stampa 3D e tecnologie CAD CAM in ambito dentale. Nel nostro innovativo centro realizziamo elementi di alta precisione. La nostra vocazione per la ricerca e l'innovazione tecnologica, unita alle abilità del nostro staff, rendono Milling Center un centro di eccellenza dedicato al mercato dentale. La stampa 3D, che sia metallo in resina, libera i nostri clienti dai limiti imposti dai metodi tradizionali e lascia spazio a richieste e esigenze personalizzate, riducendo tempi e costi. Alla creatività e professionalità dei nostri clienti rimane il compito di finalizzare gli elementi estetici prodotti.